Buonasera amiche e buonasera amici bianconeri, ben ritrovati qui sul canale, secondo contributo di giornata, si rischia una brutta figura, è il titolo del contenuto che vado a sviluppare lasciando poi spazio ai vostri commenti e ammettendo di non aver avuto assolutamente tempo di leggere il benché minimo commento al precedente contributo, lo farò anche perché immagino ci saranno commenti che mi segnaleranno come il mio precedente contenuto stia invecchiando male, perché qui è veramente difficile commentare quotidianamente la Juventus in una situazione dove credo che all'interno stesso della Juventus le situazioni si stiano sviluppando non come si sarebbe sperato, si evolvono e cambiano, mutano veramente in continuazione, vi avevo parlato dei fuori progetto e dei reintegrabili, tra questi emerge un nome, cioè dei fuori progetto e non dei reintegrabili, quello di cui vi avevo parlato questa mattina, che invece pare potrebbe, usiamo il condizionale perché ripeto le situazioni alla Juve mutano continuamente, ci sono situazioni in essere e quindi attendiamo sviluppi, ma pare che Weston McKennie, giocatore primo fra tutti messo fuori Rosa e soprattutto che aveva avuto un duro scontro con Cristiano Giuntoli, che non aveva assolutamente preso bene il tentativo di far saltare la trattativa con la Stone Villa, rifiutando i villains, e invece sembra che a seguito di un colloquio con Tiago Motta la possibilità di rivedere la propria posizione e di accettare un rinnovo a ribasso, possa far sì che il ragazzo possa essere reintegrato, difficile invece, cioè difficile comprenderlo, diversa invece la posizione ad esempio di Federico Chiesa, forse sul quale in molti di più avremmo sperato un cambio di posizione da parte della Juventus, invece la Juventus su Federico Chiesa rimane ferrea e rigida, almeno al momento, perché come vedete le situazioni cambiano costantemente, io sono qui per raccontarle, per raccontarvi quello che peraltro mi viene raccontato a me, quello che riesco così in interscambio di discorsi con persone, ripeto, vicine alla Juventus, però purtroppo non è colpa mia se le situazioni cambiano e ciò che vi ho raccontato magari due ore prima emerge e possa essere in fase di cambiamento. Mi raccomando, iscrivetevi al canale YouTube, bastionate la campanella e mettete un bel pollicione verso l'alto, in fondo alla puntata, sperando possa essere stata di vostro gradimento. Dicevo, si rischia una brutta figura, perché la Juventus si sta rendendo conto, come vi avevo annunciato nel contributo di questa mattina, delle grandi difficoltà a fare le uscite che aveva, diciamo, considerato di fare, aveva sperato di fare e sta ovviamente riconsiderando alcune posizioni. Tra queste, io ve l'avevo detto, Rugani, Kostic e Milik, ma non avevo incluso, ad esempio, Weston McKennie, che invece nelle ultime ore sembra possa essere tra colori quali possono essere integrati in gruppo. Ricordo che Tedrico Chiesa, come questi giocatori, si allenano a parte, sono considerati fuori dal progetto e gli è stato detto di trovarsi una sistemazione. Ma cosa emerge? Cosa emerge da questa situazione? Emerge che la Juventus, e in questo caso si rischia veramente una brutta figura, perché significa aver, sì, deciso di intraprendere una strada che da un certo punto di vista può essere condivisibile, cioè decisioni nette, chiare, senza tanta acqua nel vino, però poi devi essere in grado di gestirla, di perseguirla e soprattutto di sostenerla. Sostenerla sia da un punto di vista della volontà che da un punto di vista economico. Se la Juventus non ha questa forza, ed è inutile che ci giriamo tanto intorno alla Juventus, oggi non è nella condizione economica di poter fare la voce grossa, beh, io credo che forse sarebbe stato più giusto usare una maggior diplomazia. A livello comunicativo la Juve sta sbagliando o ha sbagliato davvero molto in alcune situazioni e rischi di pagarle, rischi di pagarle dovendo fare il dietrofronte. Dietrofronte che ti porta inevitabilmente a fare una figura pessima, perché se tu annunci che ci sono dei giocatori fuori dal progetto che si devono cercare una sistemazione e poi questi giocatori vengono reintegrati o alcuni di questi giocatori vengono reintegrati, significa che uno, non hai le idee chiare, due, sei debole. Sei debole perché hai voluto fare la voce grossa pensando di, in realtà, questo non si è verificato e quindi sei stata costretta, non potendo fare diversamente, di reintegrarli in rosa. Questo perché? Perché nel calcio mercato e soprattutto nel calcio di oggi, a farla da padrone, che che se ne dica? Sono i procuratori e se tu ti intraversi con un procuratore, se tu, diciamo, cerchi di fare la voce grossa con un tuo giocatore, che ha un procuratore di un certo spessore, che controlla altri 200-300 giocatori, o che basta che ne controlli anche un centinaio, ma tra quel centinaio di giocatori ci sono giocatori che ti interessano, è evidente che poi sarà difficile per te riuscire ad andare a fare mercato. Da qui, inevitabilmente, un dietrofronte da parte della Juventus, cioè quando tu hai una situazione con giocatori che sono assistiti, prendo l'esempio di casi presenti alla Juventus, come Chiesa da Ramadani, come Costice da Luci, e poi devi andare a trattare giocatori che sono assistiti da Luci e da Ramadani, beh, se hai in essere, in casa, due situazioni così, diciamo, antipatiche, è evidente che non troverai mai la porta aperta per andare a trattare giocatori assistiti da questi agenti, o che in alcuni casi possano anche fare da intermediari, da tramite. E quindi la Juve è costretta un po' a rivedere la propria posizione, perché uno, non ci sono acquirenti che possano garantire, evitare una minusvalenza, che possano garantire un introito per la loro partenza. Due, perché è sempre buono, ed è questo dovrebbe essere una regola che non devo certo insegnare io, né a Giuntoli né a nessun altro, ma tenere buoni uffici con tutti, perché con i buoni uffici puoi sempre trovare una soluzione, magari all'ultimo, una soluzione che possa essere soddisfacente per tutte le parti. Oggi la Juve, invece, è in una condizione che non riesce a trovare la quadra in tante situazioni, anche perché il calciomercato è una cosa complessa. E quando erediti una situazione difficile, nella quale hai messo anche del tuo per renderla ulteriormente difficile, perché non giriamoci tanto intorno, la situazione della Juve era una situazione di una rosa sicuramente con poco appeal, con poca rivalutazione nel valore globale dei giocatori, in più la rigidità della Juve ha fatto sì che gli acquirenti, o i possibili acquirenti, conoscendo la situazione, lasciassero decantare perché non vogliono pagare o vogliono pagare quanto meno possibile alcuni giocatori che eventualmente potevano anche avere un certo mercato. Il caso eclatante è quello di Chiesa, che sicuramente viene da stagioni difficili, ma essere considerato lo scarto degli scarti da tutti, nessuno si è affacciato alla Juve per portare una offerta consistente, considerevole o comunque da tenere in considerazione, la dice lunga. C'è poi da aggiungere quello che vi ho detto prima, se Ramadani oggi non ha partato alla Juve nessuna proposta, beh forse c'è anche un fatto, Ramadani ha scelto di portare via il giocatore a parametro zero, da qui scesa in campo da parte del padre che avrebbe voluto ricucire con la Juve per evitare un anno di tribuna al figlio che lo avrebbe estromesso dal calcio che conta. Sì, ti vai a prendere un contratto dopo da free agent, ma che contratto vai a prendere dopo che negli ultimi tre anni ne hai giocati fondamentalmente mezzo? Detto questo, vediamo quello che sarà, come si svilupperà, ma il calcio mercato è davvero una cosa tremendamente seria, molto più seria di quanto non legga i vostri commenti, che sono legittimi, perché ognuno è legittimato ad esprimere la propria opinione, ma sono molto semplicistici. Cioè se fosse così semplice come quando leggo io non prenderei lui, avrei preso quest'altro, io non avrei fatto questo, non avrei fatto quest'altro, beh io credo che alla Juve sprovveduti non siano, commettano degli errori senza ombra di dubbio, ma non è così semplice, non è come giocare a football manager quando fai mercato, ci sono tante situazioni che uno deve tenere in considerazione. Vedi l'ultima, Dica Lulu, giocatore che aveva trovato l'accordo totale con la Juventus, quando ha saputo che non era un obbligo di rischiatto, perché la Juve non voleva l'obbligo, ma il diritto, ecco che ha cominciato con un dietrofront, il sentirsi sbalottato da una squadra all'altra, da una stagione all'altra e non avere un punto di riferimento fisso, lo ha messo nelle condizioni di fare certe valutazioni, la Juve si sta spazientendo e quindi anche l'operazione Calulu, che sembrava addirittura d'arrivo, potrebbe vedere non l'epilogo, il lieto epilogo, proprio perché la Juve è stanca e stufa di aspettare i tentenamenti del giocatore, giocatore che è legittimato ad avere tentenamenti se la squadra che punta su di me non si impegna almeno a dovermi riscattare in maniera obbligatoria l'anno prossimo e io dovrei fare un dietrofront in una società che mi ha comunicato di essere, non so se fuori dal progetto, ma comunque non certamente centrale. Quindi sono tutte valutazioni che i giocatori sono legittimati a fare e quindi il mercato è difficile, è una cosa seria, non è una cosa così semplice, soprattutto quando non hai moneta sonante da poter andare a chiudere le trattative, devi muoverti con i prestiti, magari senza l'obbligo perché negli obblighi poi l'anno dopo devi sapere che hai già degli impegni verso altre società e la Juve dovendo rispettare altre situazioni con prestiti di obbligo di rischiato, di Gregorio ad esempio è chiaro che deve fare i conti veramente fatti bene per evitare di fare il passo più lungo della gamba, soprattutto in una situazione nella quale si è posta l'obiettivo di ritornare a pareggio di bilancio, di conseguenza certe operazioni col passo più lungo della gamba in questo momento non si possono fare, ditemi la vostra, ci sentiamo presto come sempre fino alla fine, ciao!